Fabio Blanco, Rocca De Conti, al termine di questa bella serata di naturalmente birra, intanto com'è andata? E' andata abbastanza bene, le birre sono piaciute, ringraziamo comunque l'organizzazione per averci dato la possibilità di parlare di birra. E' fondamentale soprattutto in Sicilia, terra di vino, parlare di questo prodotto che è poco conosciuto, soprattutto sia dal punto di vista della produzione ma anche dal punto di vista della degustazione. Avete presentato tre birre che fanno parte della vostra produzione e che sono del tutto particolari? Sì, sono tre birre storiche, sono tra le prime che abbiamo fatto. Abbiamo presentato la L, la Tari L, una birra poco luppolata, bionda, molto beverina, soprattutto per le serate estive. La Tari XL che è una birra in stile americano e la Tari di Kirat, la nostra birra speciale alle carrube.